La situazione non è andata a migliorare, anzi a peggiorare, come credo i cittadini abbiano potuto verificare. Noi continuiamo ad avere sei posti letto, sistemati e richiesti con fondi Covid, non aperti, e una situazione di assenza e un piano di rientro sulle visite specialistiche, una condizione per cui circa il 60% dei due ospedali è affidato a gettonisti, una dedizione, un orario di lavoro elevatissimo per il personale strutturato. Chiedevamo un incontro con la direzione generale e le organizzazioni sindacali per insieme vedere come affrontare questo momento così difficile che è visibile e noto a tutti. La dottoressa Serpieri non ha neanche deciso di inviare un delegato, ha inviato una lettera dove sostanzialmente non riconosce il ruolo di autorità sanitaria locale di un sindaco e si sottrae, non so per quali ragioni, le idee possono essere tante, a un confronto che è intanto utile all'ASL stessa. L'ASL non è di questo direttore generale, la salute appartiene a tutti i cittadini e i sindaci hanno un ruolo fondamentale. Al di là di parlare delle mura, c'è quanto riguarda la vita delle persone in un ambito così importante, morale, quello che stiamo scoprendo. Se hai soldi ti curi e quindi c'è un enorme ricorso al privato. Puoi contare su una grande capacità di lavoro del personale fisso dei due ospedali che però non può fare i miracoli finché tiene. Non abbiamo notizia di che cosa sarà in questo territorio tra qualche mese perché non c'è nessuna volontà di dialogo. Sui progetti presentati, cioè di incremento di stipendio per i lavoratori dell'ASL VCO, perché siamo al confine con la Svizzera che fa concorrenza e dove gli stipendi sono più alti, non abbiamo notizia da parte della regione, le aspettiamo, le auspichiamo. Noi abbiamo notizia, dottoressa Serpieri, di un progetto di marketing territoriale che avevamo suggerito per appunto mantenere qua o attrarre il personale sanitario. Dopodiché dico una cosa molto pratica, in Lombardia ci sono arrivati a mandare il parente ad assistere l'anziano in barella aldea. Da noi neanche questa misura di umanizzazione viene fatta.